Come del resto da inizio stagione, anche se la vittoria non arriva, ma mostro bene, la vittoria mi ha dato fiducia a Pimbe stesso e quindi vediamo di fare bene da subito. In questo giro quando si fanno i nomi dei velocisti favoriti, il tuo è inevitabilmente fra quelli, quindi con quale spirito arrivi a questo giro e qual è l'obiettivo minimo? Quest'anno non ho più tensione, però so che si può fare bene. L'anno scorso ho fatto quel salto di qualità vincendo due gare pro tour che mi serviva e credo di essere maturo per vincere una tappa a grande giro che mi manca. Ho anche una bella squadra, secondo me, guardando anche le altre squadre di velocisti, secondo me non hanno a parte la Giant, quindi anche e soprattutto in Turchia abbiamo lavorato bene, abbiamo giustato un po' i meccanismi che forse ci mancavano, io, Max e Ferrari, quindi si può fare, io penso, un bel giro. Sei un velocista ma anche le tappe mosse hai già dimostrato che ti piacciono e le puoi affrontare bene, ce ne sono tante in questo giro d'Italia, quindi ti vedi più da volate di gruppo o da volate un po' più ristrette? Ma io ho sempre detto che i volati di gruppo sono un vincente, se la volata va in un determinato modo, se la volata magari è un po' lenta io lo scatto e posso far bene. In Turchia me la sono giocata con Cavendish in due occasioni e quindi posso far bene, secondo me posso far bene qua il giro nelle volate di gruppo, però sinceramente ho sempre detto che preferisco la gara magari un po' dura o magari un gruppo da 30-40 corridori, se sto bene anche di meno. E quindi sì, ho abbastanza chance di fare bene. Essendo un corridore eclettico ci sono tante opportunità, la maglia rossa può essere per te un obiettivo realistico? Sarebbe un sogno, non posso negarlo, perché alla fine tutti i velocisti qua è la maglia rossa, l'altura è la maglia verde. Mi piacerebbe, però sai, sognare una cosa, essere realisti un'altra. Intanto pensiamo a far bene in una tappa, perché il mio sogno sarebbe già vincere una tappa. E poi da là, quando hai vinto già una tappa, si può pensare a cose più grandi. C'è una tappa in particolare che vorresti vincere? Beh, il mio sogno sarebbe Jesolo, perché poi ci sarebbe praticamente la passerella, che non è comunque perché sono 60 km di cronometro, però si passa lungo le mie strade, ho amici, parenti lungo le strade, quindi vincere Jesolo per me sarebbe il top. I due rivali principali quali saranno e come pensi di batterli, se riesci a farmi per ognuno o come si batte? Si batte arrivando davanti sulla linea. Il ciclismo, le regole basi sono facilissime. Gli avversari sono quelli, c'è Mesjek, c'è Grape, Matthew, però già Matthew ultimamente si è trasformato da velocista di gruppo a ranghi ristretti. C'è Viviani, c'è Nizzolo, c'è Pelucchi, c'è una bella scheda di velocisti, sarà una bella lotta e delle volate abbastanza caotiche secondo me quest'anno.